Nicola Svultaggio. Ruolo? Terzino sinistro. A quale giocatore ti piacerebbe assomigliare? Marcello perché è un gran terzino e viene dal Brasile. Qual è il compagno di squadra che ti fa ridere di più durante gli allenamenti? Zaccaria Ciamici. Quali pensi che siano i tuoi pregi e i tuoi difetti in campo? Pregi, cerco di correre e spero di fare sempre il mio lavoro. I difetti sono un Qual è il numero di maglia che preferisci? Il 3 perché è il numero di maglia del terzino sinistro. C'è uno sport che ti piace particolarmente dal calcio? Il football americano. La tua materia scolastica preferita? Inglese. Che cosa rappresenta questa esperienza nel Ravenna per te? Il raggiungimento di un piccolo traguardo. Per che squadra tifi? Ravenna.